Signore e signori buongiorno, benvenuti a bordo, il comandante che parla mi chiamo Alessandro Gulisano, ora qualche minuto e lasciamo l'aeroporto, siamo numero 2 in sequenza, il tempo di volo sarà di 50 minuti, procederemo direttamente verso Firenze e quindi destinazione finale Fiumicino dove preveniamo di atterrare in orario, grazie per la vostra contesa attenzione, vi auguro un buon volo. Ascettiamo per il take-off, tripontira su circa 50 minuti e po' il procedere a Florence, la final destinazione è Roma-Fiumicino dove vorresti fare il tempo di vuelo. La fratelli del tripolo del buon volo, le destinazioni è riportate location e la temperatura di settimane qualità con la temperatura di 18 gradi. Grazie per la attenzione, vieni la Celti. che si è il calico bravo take off Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.